Ciao Gene Ciao Fitz Com'è andata la rapina in banca? Benissimo, 8 milioni di euro E dove sono i soldi? Non avevo le borse, ci faranno un bonifico E un po', la rapina alla posta? La rapina alla posta è andata bene, siamo entrati e un attimo dopo eravamo fuori Un gioco da ragazzi? No, una porta girevole Senti, perché mi hai fatto venire qui oggi? Il capo vuole che rimaniamo qui ed aspettare che arrivi la nuova cantante del nightclub Che si chiama Marlene Hai saputo di Bob? Ha fatto un incidente Non sai niente Ci hai fatto male? No, non si è fatto male, ma l'incidente ha dell'assurdo Pensa che gli è entrato un'app mentre guidava la Porsche E l'appunto Puoi ripetere quello che hai detto? Ho detto che Bob ha avuto un incidente Un incidente assurdo Gli è entrato un'ape mentre guidava la Porsche E l'appunto Quale macchina stava guidando quando ho avuto l'incidente? La Porsche Ah E l'appunto Che patente ci vuole per guidare due macchine contemporaneamente? Quali macchine? La Porsche e l'appunto Bob non stava guidando due macchine contemporaneamente Una la trainava Ma che trainava? Ma lascia perdere le macchine Pensa alla dinamica dell'incidente Pensa all'ape C'era anche un'apecar Ma che apecar? Tre macchine guidava C'era la Porsche, l'appunto e l'apecar E poi lui si chiama pure Bob E scusate L'ape, l'ape Come on Come on Come on